Ritorniamo in diretta, andiamo a voltare del tutto pagina rispetto alla politica di cui ci siamo occupati poc'anzi con il senator Pietro Ichino e stiamo a raccontare ai nostri radioascoltatori invece di un'iniziativa, un'iniziativa importante che si sta svolgendo a Roma, si svolgerà qui nella nostra città fino al 15 luglio, nello specifico siamo a piazza Santa Croce in Gerusalemme, il titolo di questa iniziativa è Santa Croce Effetto Notte, patrocinata da Roma Capitale, dal MIBAC, da Cinecittà Luce, da Estata Romana 2012, ma soprattutto dall'esercito italiano. Noi abbiamo ai nostri microfoni il tenente colonnello Massimo Bertoldi, buongiorno. Buongiorno anche a lei e a tutti gli ascoltatori. Buongiorno. Dunque partiamo subito da questa iniziativa, partiamo subito dal programma, è la seconda edizione no? Esatto, è la seconda edizione e devo ammettere che sta superando ogni nostra aspettativa. L'anno scorso abbiamo cominciato, è stata la prima edizione, abbiamo fatto questa iniziativa in sinergia con gli amici del Ministero dei Beni Culturali, della Direzione Generale del Cinema. Siamo partiti così un po' in sordina, ma quest'anno devo vedere che c'è un grande afflusso di pubblico. Probabilmente il luogo, il luogo è molto bello, è l'area archeologica adiacente alla Basilica di Santa Croce di Gerusalemme, che molti romani conosceranno. È una zona un po' caratteristica, un po' all'interno, dice l'area archeologica della Basilica Sessoriana. È un polo museale, in quella zona insiste il Museo degli Strumenti Musicali e due importanti musei militari, il Museo della Fanteria e il Museo dei Granatieri. Ecco, quindi partendo da qui, alla seconda edizione, come dicevamo, con questo grande successo, ogni sera apre al pubblico alle ore 19. Esatto, normalmente la serata si sviluppa in due fasi. In un primo tempo c'è un concerto o un recital o altre cose. E nella seconda fase ci sono delle proiezioni di film, ma di capolavori del cinema, potrei dire. Il giorno di apertura c'è stato il concerto della Banda dei Granatieri nella prima fase e poi a seguire c'è stata la proiezione, la versione restaurata, in onore dei 50 anni, del Sorpasso, un film del 62 di Dino Risi, un bellissimo film, questo road movie che disegna un po' l'Italia di allora. E a seguire ogni sera c'è un'inizia diversa. Ecco, volevo segnalare per gli ascoltatori, qualora fossero interessati, quella di stasera. Stasera c'è un po' una chicca, ecco. Nella prima fase c'è l'inno svelato. L'inno svelato è riduttivo, chiamarlo recital, è una conferenza musicale, è un racconto. Innanzitutto il relatore è il conferenziere del Quirinale, il dottor Michele D'Andrea. Il tutto con l'accompagnamento della banda militare dell'esercito italiano. Mamma mia, deve essere uno spettacolo veramente meraviglioso. Sì, è un po' una passeggiata musicale nella storia del risorgimento, in questo nostro inno musicale, con delle comparazioni con gli inni di altri paesi, con altre canzoni, quindi veramente una lezione, ma più una lezione, una piacevole chiacchierata. Il tutto è con una bellissima location, che come dicevo, queste aree archeologiche, queste mura romane, ben illuminate per l'occasione, e coloro che dovessero venire assicura veramente un bellissimo spettacolo. Ecco, sicuramente saranno numerosissimi coloro che parteciperanno. Diamo bene le coordinate. Sì, innanzitutto, lei l'ha già detto, comunque l'ingresso è gratuito, il luogo è Santa Croce di Gerusalemme, esattamente a fianco alla Basilica, quello che conoscono i romani. Ci sono dei soldati, delle soldatesse in uniforme, che accolgono il personale, tutto il pubblico che accoglie, danno dei Dei Eppliant, contituisce tutto il programma, e accompagnano le persone che vengono nei loro posti, che ci sono circa 500 poltrone, quindi a esaurimento chiaramente c'è anche il posto a sedere. E poi, dopo la prima parte, il pubblico può anche andare dall'altra parte, diciamo, dell'area destinata alla proiezione, e vedere questi bellissimi film. Stasera, ecco, giusto per parlare di film, c'è un altro bellissimo film, Magnifica Presenza, di Ferzan Ospetek, quindi un film recente, ma anche molto intenso, molto bello. Tra l'altro verrà anche, ecco, messo in onda, così lo possiamo definire, anche Dias, di cui parlavamo ad inizio della nostra trasmissione, quest'oggi in buio in sala, la rubrica curata dal dottor Francesco Gesualdi, ecco, quindi capita veramente, diciamo, nel momento giusto, ecco. Esatto, e domani, guardi, domani è previsto il concerto della banda di nuovo della Ligianità di Sardegna, nella prima parte, e poi a seguire c'è Dias, di Daniele Vicari. Esatto, tra l'altro per l'intera durata della manifestazione, quindi fino al 15 luglio, il Museo della Fanteria e quello di Granatieri saranno aperti al pubblico. Esatto, aperti al pubblico, oltre alle normali sale, che sono normalmente riservate, anche lì c'è qualche curiosità. Ci sono dei cimeli un po' particolari, adesso, giusto per menzionare qualcuno, c'è la bicicletta di Enrico Todi, che usò il famoso eroe della Prima Guerra Mondiale durante la Battaglia dell'Isonzo, quando lanciò la crucia. Questo è stato prestato per l'occasione dal Museo dei Bersaglieri, che è a Portapia. Ci sono altri cimeli del Museo del Genio. Veramente è uno che lì è riporcorrere un po' la storia che ha costituito la base per il nostro paese. Oltretutto devo dire che si sta molto freschi, perché è un posto pieno di verde e si passa una piacevole serata, accompagnati da tante belle iniziative culturali. Certo, certo, in questo caso il ponentino, come si dice, di Roma ci aiuta. Sì, sì. Ecco, tra l'altro volevo sottolineare anche il fatto, in merito sempre ai musei di cui stiamo parlando, il Museo della Fanteria e il Museo dei Granatieri, che non solo saranno aperte al pubblico dalle 19, così come poi l'intero comprensorio archeologico, ma anche prevista la possibilità di visite guidate ogni giorno a partire dalle 19.30. Esatto, grazie a dei volontari. Alle 19.30 ci sono delle visite guidate, anche se gratuite, in cui con dei gruppi di 50-60 persone possono girare per l'area e queste guide, questi personaggi, questo personale qualificato dà tutte le spiegazioni della zona e che veramente molto interessanti. Quindi si può fare veramente una panoramica dalla storia, dalla cultura, dalla musica al teatro e al cinema. Veramente una rassegna completa, oserei dire. Ecco, e ricordiamo anche un altro dato, cioè che non soltanto sarà possibile mettere insieme una serata di svago con anche la cultura, magari per coloro che volessero visitare questi musei, questo comprensorio archeologico, ma tra l'altro c'è anche, diciamo come special guest, così lo possiamo definire, l'illuminazione delle torri. Sì, diciamo, c'è un reparto del genio che sta a Roma, il sesto genio pionieri, che ha messo delle due torri di limonazioni, sono delle torri, diciamo, militari, ma in questo caso sono state messe in maniera tale da dare una luce calda, un colore caldo, che enfatizza ancora più la bellezza di questi ruderi romani. Danno veramente un piacevolissimo colpo d'occhio. Beh, insomma, a questo punto io darei appuntamento per quanto riguarda stasera, infatti, ecco, e quanto prima continuare a recarsi, insomma, a seguire questa mostra, ricordiamo ancora una volta, Santa Croce, piazza Santa Croce di Gerusalemme, fino al 15 di luglio, c'è tempo, a partire dalle 19 fino alle 24, con la possibilità, insomma, di visitare le aree archeologiche, la possibilità anche di seguire film, documentari, concerti, una manifestazione praticamente a 360 gradi promossa dalla Direzione Generale Cinema Insieme all'Esercito Italiano, insomma, con i Granatieri di Sardegna che hanno inaugurato questa iniziativa, con Verdone, 50 anni del sorpasso, insomma, sarebbe troppo lungo adesso stare ad elencare tutto, quindi io ricordo ancora una volta ai nostri radioascoltatori che c'è tempo fino al 15 di luglio per andare a Piazza Santa Croce in Gerusalemme. Tenente, noi la ringraziamo molto. Grazie a lei e di nuovo un saluto a tutti gli ascoltatori. Complimenti, buonasera. Grazie, grazie a tutti. Grazie al Tenente Colonnello Massimo Bertoldi, organizzatore per l'Esercito Italiano di questa manifestazione, giunta, ricordiamo ancora una volta, alla seconda edizione, che sta avendo uno straordinario successo. Tra l'altro, come dicevi, Francesco, insomma, fa anche fresco in quelle zone, quindi vale la pena davvero approfittare. È una location veramente molto bella, suggestiva, perché è stata ristrutturata recentemente e non si vede da Piazza Santa Croce in Gerusalemme. Bisogna entrare e c'è uno spazio verde molto, molto suggestivo. Perfetto, allora noi ci fermiamo qualche istante per una breve pausa e poi ritorneremo ancora per l'ultima parte della nostra trasmissione.